Io ho frequentato il liceo Russell di Garbagnate, indirizzo scienze umane. Al termine del mio percorso ero molto indecisa su cosa scegliere poi. Diciamo che mi è stato molto d'aiuto un supporto da parte dei docenti, degli insegnanti, per poi prendere una decisione definitiva che è stata quella di scegliere come percorso universitario di fare sociologia. Principalmente per prendere la mia scelta definitiva mi sono basata un po' su quelli che erano i miei interessi appunto, quindi ho cercato di scegliere un indirizzo in base a qual era l'offerta formativa, quindi ho scelto un indirizzo sociologia che proponesse una serie di materie per me interessanti e che potesse un po' in qualche modo completare la mia figura, la mia futura figura professionale da un punto di vista umanistico e anche un po' scientifico, statistico. Nel prendere la mia decisione ho consultato le varie università che offrivano questo percorso per poi scegliere come siede Trento. Ho fatto il test di ammissione, sono stata presa a Trento. Perché Trento? Perché confrontando le varie offerte formative, Trento nell'ambito sociologico è una delle migliori d'Italia. La prima cosa che io personalmente ho fatto e consiglio di fare è andare a controllare un po' i siti delle singole università per vedere le offerte formative, quindi osservare anche i piani di studio e le varie offerte altre formative, quindi ad esempio programmi Erasmus. Inoltre è possibile osservare anche delle classifiche che vengono fatte da alcuni siti che si possono trovare facilmente su internet, che permettono di osservare il posizionamento di una determinata facoltà universitaria, quindi ad esempio Sociologia Trento, all'interno di una classifica nazionale. Questa classifica viene fatta in base a punteggi acquisiti dalle università in base ad esempio al numero di laureati, i voti di laurea, le possibilità di studio all'estero e così via, che quindi vanno a formare un punteggio finale e è abbastanza utile perché appunto permette di confrontare anche il livello dell'università che si vuole poi scegliere. Pendenzialmente nell'università vi sono corsi con frequenza obbligatoria, ma dipendo un po' dalla facoltà che si sceglie. Per quanto riguarda la mia facoltà Sociologia pochi corsi hanno una frequenza obbligatoria. Per i corsi che non hanno frequenza obbligatoria si può scegliere se andare a lezione o meno e sta un po' allo studente, insomma ci sono corsi che ho frequentato, altri corsi che ho reputato non valesse la pena frequentare e ho deciso di studiare da casa. Generalmente l'orario settimanale io ho sempre avuto più o meno tre corsi nella prima parte dell'anno, quindi da settembre a dicembre e quattro corsi circa o tre, dipende un po' dall'anno, da febbraio, marzo fino a giugno. Tendenzialmente sono quattro ore settimanali per corso e quindi la giornata tipo può variare dall'avere una giornata che è impegnata per tutta la mattinata da lezioni e giornata invece di pausa totale dove non ci sono lezioni. Dipende un po' poi da come ci si vuole organizzare. Io personalmente dopo essere andata a lezione torno a casa, sistemo gli appunti, quindi rivedo, confronto appunti che ho preso a lezione con i libri che appunto devo studiare previsti dal corso. Una volta arrivata in sessione, quindi durante il periodo d'esami, devo solo riprendere tutti i miei appunti e mettermi lì ed effettivamente studiarli, impararli. Generalmente spostarsi secondo me è un'esperienza che arricchisce, ovvero sicuramente si diventa più grandi, più indipendenti, si inizia effettivamente a saper vivere da soli. Non so se possa essere una possibilità economicamente fattibile per chiunque, nel senso dipende molto anche dalla città in cui ci si sposta, perché bisogna tenere in considerazione che bisogna pagare l'affitto e le tasse universitarie. Per chi ha un ISE, quindi possiede un patrimonio che non è particolarmente elevato, ha la possibilità di accedere anche a delle infrastrutture proposte dall'università che hanno degli affitti accessibili, quindi più bassi. Io non sono in uno studentato, vivo in una casa con altri studenti e generalmente un affitto a Trento va dai 200 euro se si sta 250-290, se si sta in una doppia, a 400 euro se si sta in una singola, più eventualmente spese incluse o escluse a seconda del proprio contratto. Prendendo la mia scelta riguardo sociologia, sinceramente non mi aspettavo fosse così tanto importante anche l'aspetto scientifico-matematico. Io mi ritrovo infatti a fare uno o più corsi di statistica all'anno, quindi finora sono già 4-5 corsi di statistica, che magari pensando a un corso di sociologia uno penserebbe sono principalmente materie umanistiche. Non è realtà perché è classificata come una classe di laurea che si pone un po' a metà fra un umanistico e qualcosa di un po' più economico, quindi tendenzialmente riesce un po' a far combaciare bene queste due sfere. Per quanto riguarda la mia preparazione, in realtà devo dire che il liceo che ho fatto mi è abbastanza preparata, anche da un punto di vista scientifico, nonostante abbia fatto scienza umana, la mia base di partenza era abbastanza solida, quindi non ho avuto grandi problemi nell'affrontare i corsi. Cosa penso di fare dopo? In realtà le idee non sono ancora chiarissime, tendenzialmente penso che mi sposterò su un ambito più economico, quindi facendo qualcosa che riguarda un po' le comunicazioni, il marketing e i consumi, oppure di prendere un po' in considerazione eventuali master sempre nell'ambito più economico, organizzazioni di eventi. Secondo me sociologia è una facoltà abbastanza vasta, nel senso che dà la possibilità poi sia di ricollegarsi a percorsi un po' più economici, quindi marketing e economia, sia di continuare su un percorso un po' più sociologico, ad esempio per fare sociologia e ricerca, che è abbastanza rinomata e prepara poi o per affrontare un dottorato, oppure piuttosto per fare proprio ricerca sociologica, oppure per entrare nell'ambito delle risorse umane o indirizzarsi maggiormente su altri percorsi di studi sempre un po' più umanistici o addirittura servizi sociali. Tendenzialmente dopo aver fatto una triennale in sociologia si è un po' più indirizzati verso una magistrale, perché diciamo che la magistrale ti dà un po' quel qualcosa in più, quindi va un po' a completare la figura professionale che poi si andrà a ricoprire. Generalmente penso di consigliare questa facoltà innanzitutto qualcuno a cui piace effettivamente la sociologia come materia in sé, che non abbia paura di affrontare statistica, comunque non è niente di troppo impegnativo, basta studiare e poi soprattutto qualcuno che sia disposto a intraprendere anche un percorso magistrale successivamente. Consapevole del fatto che vorrò intraprendere una strada più inclina all'economia, mi vedo impegnata in una carriera lavorativa che possa essere una grande azienda, ad esempio sono un'appassionata di montagna, quindi aziende magari anche sportive e di specializzarmi magari anche nell'ambito di eventi, organizzazioni di eventi, organizzazioni di fiere. Probabilmente di tornare a Milano perché come città offre maggiori opportunità da un punto di vista lavorativo e di intraprendere questa strada. Spero di avere la mia indipendenza, quindi di continuare a vivere da sola, non perché io mi trovi male a vivere a casa mia, ma perché ti dà una certa libertà, ti dà la possibilità di crescere. Insomma questo è quello che spero di fare a 30 anni, poi non so, vedremo come va.